Chieti e Avezzano hanno inoltrato domanda di ripescaggio al campionato di Serie D. Scadeva oggi alle 14 il termine e l'Avezzano, proprio stamani, ha presentato l'istanza con tanto di documentazione e somma richiesta. Domanda che il Chieti invece aveva già recapitato al Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Direttanti venerdì scorso. Lo stesso Dipartimento ha reso noto che sono stati inoltrati in totale 31 domande di ripescaggio al campionato di Serie D 2020-2021 da parte di altrettante società non aventi diritto. 19 sono le retrocesse, tra cui appunto le abruzzesi Chieti e Avezzano, nonché la marchigiana Sangiustese, altra squadra che ha militato nel girone F. 12 sono le seconde classificate di eccellenza, 3 le domande di altre squadre, sempre nel campionato di eccellenza, non seconde classificate, ma che puntano evidentemente su tradizione e bacino d'utenza, Acragas, Sora e Barletta. Le 31 richieste saranno esaminate dalla Covisod, che ne comunicherà l'esito alle società entro il 16 luglio, i club che otterranno un parere positivo potranno essere inseriti nell'apposita graduatoria stilata dal Dipartimento Interregionale per l'eventuale completamento dell'organico del prossimo campionato. Le società che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti possono invece presentare ricorso entro le ore 14 del 20 luglio. La Covisod esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Direttanti sui ricorsi entro il 5 di agosto. Una volta disponibile la rosa definitiva di squadre ammesse al ripescaggio, sarà stilata la graduatoria che prevede l'ordine di due retrocesse dalla D, seguita da una seconda di eccellenza. Con questa alternanza saranno colmati tutti i posti eventualmente vacanti. L'Avezzano sembra avere delle chance su questo fronte, ma resta in piedi anche il ricorso al TAR per la riammissione in Serie D, attraverso l'annullamento degli effetti della delibera del Consiglio federale che ne ha sancito la retrocessione.